Sulla nostra regione condizioni di tempo alterno in questo fine settimana. Nella giornata di sabato avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, aria secca in quota e ancora un po' di bora moderata sulla costa. In serata sarà possibile la formazione di qualche locale nebbia sulla bassa pianura, soprattutto a confine con il Veneto, per quanto riguarda le temperature sui valori di questi ultimi giorni, quindi le massime intorno ai 14-15 gradi su pianura e costa. Per la giornata di domenica al mattino ci aspettiamo un po' più di nuvolosità, sempre sulla zona pianeggiante e costiera della regione, tempo migliore probabilmente in montagna, dove comincerà a soffiare vento da nord a nord-ovest, da moderato a sostenuto nel corso della giornata, vento che poi probabilmente arriverà anche sulla pianura e sulla costa nel tardo pomeriggio in serata, portando un miglioramento su tutte le zone. Per lunedì cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili gelate al mattino anche in pianura e ancora un po' di vento al mattino in quota, in montagna, condizioni di tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana, quindi non sono in vista particolari cambiamenti. Buon fine settimana a tutti!